Silvio Mondinelli, classe 1958, 64 anni, compiuti lo scorso 24 giugno, qui in Valle Bognanco, per quale motivo? Scusate se non parlo bene perché sono stato morsicato dieci minuti fa da un'ape, però insomma sono i casi della vita. Benvenuto in Valle Bognanco? No, sono venuto, mi piace il posto soprattutto, ero già stato in altri posti dell'Ossola, ho visto dei posti meravigliosi, della gente accogliente e questa è una cosa molto importante. Dall'Ossola siamo passati alla zona del Monterosa fino poi al Tetto del Mondo, sei uno dei pochi alpinisti al mondo ad avere fatto tutti i 14.000 senza l'utilizzo delle bombole. Sì, anche se adesso c'è un po' la polemica del Manaslu che dicono che non l'abbia fatto nessuno a cominciare da me, non lo so questo, però insomma sono uno dei pochi a averli fatti tutti, ho fatto tre volte l'Everest e altri 8.000, però insomma ho fatto, se li ho fatti è perché tante persone mi hanno aiutato ad andare in cima. Ma raccontaci un pochettino qual è stato il tuo avvicinamento alla montagna. Ma io sono andato per sbaglio nella Guardia di Finanza, per sbaglio sono andato nel soccorso alpino, per sbaglio ho avuto la passione di andare in montagna e alla fine tramite tante persone che mi hanno trasmesso la passione sono riuscito anche a avere la passione della montagna. E poi è stato un percorso naturale perché ero sul Monte Rosa, c'era la quota e ho provato la prima volta a vedere a che quota arrivavo, non ci sono arrivato, sono arrivato solo a 7.500 e poi ho continuato finché sono andato in cima al tetto del mondo. Ricordiamo qualche data, sei entrato nella Guardia di Finanza nel 1976, due anni dopo nel 78 sei entrato a far parte della SACF, quindi del soccorso alpino alla Guardia di Finanza, poi nell'81 guida alpina e da lì avanti con una serie poi di espluva, raccontacene qualcuno partendo appunto dagli 8.000. Io credo che le più belle salite le abbia fatte su Rosa, mi piaceva arrampicare in inverno con un amico che si aveva Spera in Dio, tagliate il nome Spera in Dio e niente, eravamo giovani, andavamo solo in giro a arrampicare, a far festa e arrampicare. Poi ho avuto la fortuna di essere invitato a fare la prima spedizione in Perù e poi da lì è cominciata la passione, andavo a caccia, ho venduto il primo fucile che andavo a caccia e con quello mi sono pagato la prima spedizione e da lì non sono più andato a caccia. Il primo 8.000? Prima del 8.000 è arrivato nel 1994 nella via Messner del Manaslu, per la via Messner e da lì è cominciata la passione, credo di averlo fatto per sbaglio, poi ho provato il secondo, poi il terzo come i cioccolatini che ti piacciono e ho continuato. Dopo diventa forse un vizio, non lo so, una droga e alla fine sono riuscito a coronare, grazie sempre all'impegno di tante persone, dagli sponsor, dagli amici, dalla famiglia, sono riuscito a coronare il sogno di fare i 14.000 senza l'ausilio supplementare dell'ossigeno. Non solo, poi nel 2010 Gnaro diventa uno dei pochi alpinisti al mondo ad avere salito l'Everest da entrambi i versanti senza utilizzo sempre delle bombe. C'è un motivo perché ero già stato tre volte dalla Nord, ero sempre tornato a casa per il brutto tempo, ho detto quando avrò finito gli 8.000 voglio provare a ritentare l'Everest dalla Nord, eravamo quattro amici e siamo andati in cima. La cosa bella è che l'ultimo giorno abbiamo diviso 8.200 metri, abbiamo dormito senza tenda perché non ce l'avevamo e abbiamo diviso una mela in quattro e però insomma siamo riusciti a coronare questo sogno. Nevicava, c'era Gerlinde Carter Brunner che è la prima donna a averli fatti tutti senza l'ausilio supplementare dell'ossigeno, è stato bello. Nevicava però non ce ne fregava niente il paesaggio, ci interessava avere la cima e basta. Però una volta finito il giro l'avventura ricomincia, hai fatto un altro 8.000? No, sono andato in giro un po' per il mondo a fare altre montagne, stavo facendo le Seven Summit, mi manca il Vinson, però costa troppo non ci andrò mai. Un amico sta primavera, st'inverno mi aveva detto se lo accompagnavo al Macalu, ci siamo andati, ci siamo fatti fregare come i poli perché siamo partiti presto e ci stavamo congelando i piedi. Però la cosa bella, cioè la cosa bella, che ho visto che non c'ho più quel mordente di andare a fare gli 8.000, insomma le ho già fatti e forse perché sono diventato vecchio, più maturo. Non c'è più quella grinta che avevo prima, dunque è giusto non andarci più e fare altre cose, le Alpi sono stupende, montagne in giro per il mondo ce ne sono, facili, meno facili. Però insomma l'importante è girare il mondo, conoscere gente nuova, religioni nuove, idee di pensare diverse, è molto bello per questo. E a riguardo anche non manca il tuo impegno a livello sociale? Sì, noi avevamo un'associazione e adesso l'abbiamo chiusa, aiuto tanti amici, che altre associazioni mi sembra giusto, a me ho ricevuto tanto e voglio dare tanto. Poi sta nel cuore delle persone, io quando c'è da fare qualche dono ad aiutare o ragazzi così, o quando mi fanno regali in soldi faccio sempre donazioni, ma questo è il mio carattere. Spero che domani i miei figli nel loro piccolo faranno anche questo come loro padre. L'alpinismo è azione e contemplazione, però è anche esplorazione e avventura, ma c'è ancora molto spazio per l'avventura? L'avventura ce n'è, fa ridere perché quando vanno a fare gli 8000 dicono vado a fare un'avventura. No, l'avventura vuol dire andare in un posto in movi che non conosce nessuno, che non è andato nessuno. Sicuramente in giro per il mondo ci sono tanti di quei posti, in Cambogia per esempio c'è una montagna molto alta che non è andato nessuno. Però è molto più facile andare nei posti dove vanno tanta gente e dire che è un'avventura, però insomma c'è ancora tanto da scoprire per il mondo. Sicuramente le cose facili le hanno già fatte, adesso diventano sempre più difficili. Qual è la montagna che hai più nel cuore? A dire la verità il Monte Rosa, perché ho vissuto 34 anni ai piedi del Monte Rosa e sì, girare il mondo è bello, però a casa, insomma è sempre a casa tua, anche se io non sono di Alagna, però lo considero casa mia. In Monte Rosa sono cresciuto come alpinista, ho avuto tanti amici e ho ancora tanti amici e mi rimarrà sempre nel cuore. Concludiamo questa chiacchierata con Gnaro con un'ultima domanda, quali sono i tuoi prossimi obiettivi, qual è il sogno nel cassetto che hai? Il sogno nel cassetto adesso ho i figli che stanno diventando grandi, sarebbe bello vedere che diventano anche loro delle persone positive, oneste. Una ragazza nel mondo dello sci è bravina, speriamo che faccia la sua carriera e anche se non la farà arriverà a un certo punto che vedrà che la vita è difficile. Il figlio fa l'allenatore, gli sci anche lui ha le sue soddisfazioni e la cosa bella è che sono positivi, questa è la cosa importante. Io sono contento per quello, ho fatto l'alpinista, ho fatto l'atleta, adesso faccio il papà.